Tienimi in linea con quel carro leggero! La portata c'è! Brucia, bastardo! Portamelo nel mirino! Così, così! Ancora! Portami in linea di tiro col prossimo, Edward! Carro, attenzione! Sono a tiro! Forza, avanti! Forza, avanti! Forza, avanti! Il controattacco non resterà l'unico. Presto ne arriveranno ancora. Allora teniamo duro e combattiamo. Lasciamo che Bess faccia quello che sa fare meglio. Non sapete fare di meglio. Impatto perfetto! Cerca di non rallentare! C'è il dratti! Allora, cari crocchi, vi piace? Allora, c'è il dratti! Stunt il dorso! Stunt il dorso! Stunt il dritto! Stunt il Stunt l'amore! Stunt l'amore! Stunt l'amore! Mi spiace per te, belcrucco! Questa signora è inarrestabile! Cazzo, ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ce l'hai fatta, ragazza! Prossima fermata, ca... Signore? Edwards, andiamo! Oh no! Non pensare di poter crepare proprio adesso! Sto bene, ragazzi! È che mi sono divertito troppo! E ora... Hey! Make up the battle in your own hands! Artiglieria! Guida, guida! E che riparano! Mi coprino io! Tutto bene, Edward? Andiamo! Mi dispiace bene! Questa! Questa! Consiglio! Questa! Questa! Edouard. Edwards. E ora? Che cosa hai intenzione di fare, pilota? Andiamo a piedi. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e www.mesmerism.info.com www.mesmerism.info